Ho comunicato che mi ha mandato per il suo concorso la Valentina Lipuma Vado? Sì, vai Sì, ed è il concorso che ha lanciato la volta scorsa Sì, certo Se sei un artista, poeta, attore, musicista talentoso maggiorelle con inediti non registrati la CIA allora è arrivata la giusta opportunità da non farsi scappare In 10 dì con i tuoi demo musicali e vocali a Hashtag Valentina Lipuma Potresti partecipare a Hashtag Gioche Books il programma social dedicato agli artisti ed è stato ideato dalla giornalista già nota ideatrice del Hashtag Gioco di Carta Bianca Come un tale scout, la penna del Mantovano aprirà nuove strade a chi ci crede nei propri sogni Durante l'hashtag lockdown, teatri, cinema, concerti sono stati bloccati manifestandosi a massimo sul proprio balcone Le pagine che i quotidiani dedicano allo Hashtag Spettacolo sono state dedicate all'emergenza sanitaria Ecco perché durante l'hashtag fase 2 nasce la sua opportunità giornalistica dedicata alla rivincita degli astri nascenti di valore Nel canale Chiocciola Sbriciolina 83 ci saranno dedicate tutte le istruzioni per partecipare Hashtag ShowMasko1 Contatta l'autrice del format via messaggistica privata e buona fortuna Ecco quindi contattate Valentina Lipuma su Facebook o su Instagram Sbriciolina83 Davide Dalfiume Così Vittura